segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te allora professor prodi benvenuto insomma cominciamo da questo anno di governo governo meloni lei questo governo lo promuove o lo boccia complessivamente poi entreremo un po nei temi come professore io sono in pensione quindi non è che possa dare ma certamente meloni ha agito con estrema astuzia politica cioè ha messo un ministro degli esteri americano un ministro dell'economia che pronto al compromesso europeo quindi si è costruito le mura per proteggere il governo e poi tutti gli altri aspetti sono invece lasciati al potere dei ministri giochi di corrente ai poteri locali diciamo ai poteri nazionali insomma anche del gruppo del gruppo del partito quindi è proprio una specie di divisione dei compiti ha proceduto finora un esercizio non facile perché poi anche negli interessi più specifici gli scontri non sono certo mancati però noi siamo rimasti qui insomma a guardare anche le sue mosse con i tedeschi per esempio no a un certo punto siamo arrivati sull'orlo di uno scontro anzi dentro uno scontro anche molto duro no quando sul tema delle ong sulle contestazioni poi insomma siamo 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 abbiamo visto la meloni andare a lampedusa con ursula von der leyen mentre salvini gli sparava contro con mario le pen si è detto qui salta un po tutto per aria e invece all'ultimo momento torna l'accordo cosa c'è dietro questo accordo tra la meloni scholtz la convidenza di tutte e due cioè scholtz non aveva nessun interesse ad andare oltre con le sue misure perché una parte della sua opinione pubblica non era favorevole a questo aiuto molto forte la meloni aveva gli interessi opposti hanno fatto a metà come si fa in questi casi no e certamente questo non ha indifferenti conseguenze politiche nel futuro perché la meloni si è un po come firmato un contratto di assicurazione per il futuro cioè a seconda di come vanno le elezioni europee può essere più o meno vicino alla probabilissima maggioranza ursula quella che c'è adesso che verrà prolungato in futuro e questo naturalmente ha provocato la tensione di saldini anche questa logica cioè nel governo ognuno tiene una fascia di elettorato sua specifica ci troviamo con giorgia meloni anche noi giornalisti raccontare un po' un ircocervo cioè da una parte un po draghiana amica di ursula von der leyen che punta a un rapporto con scholtz in vista di questa maggioranza ursula diciamo in cui stanno insieme i moderati di due schieramenti diciamo no della sinistra e della destra dall'altra parte invece ci abbiamo la russa le fascisterie diciamo così queste questi scuotimenti identitari e appunto anche questi personaggi prima abbiamo sentito un po rammentarlo da bisignani insomma un po questa squadra di governo che sembra veramente molto poco europea come standard proprio quello che dicevo prima cioè fatte le pareti politica destra e il blocco della politica diciamo così economica europea il resto lascia alle sue che lei ha chiamato fascisterie di avere potere quindi tutto il controllo sulle nomine il controllo su ogni aspetto della vita politica e questo è proprio coerente col tipo di divisione dei poteri che ha fatto insomma però poi bisogna portare a casa i risultati professore cioè bisogna guidare un paese e allora Giorgia Meloni l'Italia la sta guidando verso un porto sicuro in un momento in cui abbiamo i mutui al 5 per cento l'inflazione ancora alta nonostante siano saliti i mutui il caro energia il caro benzina la guerra ancora in queste in questa situazione Giorgia Meloni è un leader capace di portare l'Italia in un porto sicuro se lei prende le stesse dichiarazioni della presidente del consiglio vede subito la differenza no il trionfalismo pre estate e l'estrema prudenza e la riduzione degli obiettivi che ci sono oggi sono un bel cambiamento no cioè una meloni trionfalista diciamo così siamo arrivati a una meloni che tratta in qualche modo anche perché abbiamo abbiamo lei aveva promesso una manovra da oltre 30 miliardi di euro ce ne sono credo 15 e sono tutti a deficit allora questo deficit lei che cosa pensa è un rischio è un'opportunità era necessario farlo cosa vede lei in questa manovra economica che si prepara l'adeguarsi a una situazione di fatto non aver preso alcuno dei grandi provvedimenti che erano previsti cioè si pensava che nella 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 politica fiscale si togliessero privilegi esenzioni sacche di potere potremmo dire e questo non è stato fatto e la crescita è diminuita quindi il problema finanziario adesso è un problema pesante e non ci sono soldi per la sanità che è quello tra l'altra cosa veramente strana no che il paese capisce che la sanità il problema più drammatico lo vediamo in tutte la paura della salute e non ci sono soldi il governo non ha a disposizione risorse su questo e allora vuol dire che i problemi sono estremamente forti e secondo me vanno affrontati con maggiore energia perché ancora l'aumento dello spread diciamo per i telespettatori cioè del tasso di interesse a differenza di quello tedesco sui bonds sui titoli pubblici insomma non è come in alcuni punti del passato ma sta peggiorando quindi c'è una specie di avvertimento dei mercati nei confronti della politica del governo c'è una tentazione del del governo meloni di prendersela ne parlavamo prima anche con michele serra con i poteri forti no cioè se c'è qualcosa che non va è colpa sempre di qualcun altro per esempio c'è stato un duro attacco al commissario gentiloni che non farebbe abbastanza gli interessi dell'italia lei è stato presidente della commissione europea cosa c'è dietro questo attacco allora due cose dobbiamo dire la prima cos'è un commissario europeo io quando ho fatto il presidente della commissione europea ho giurato fedeltà all'unione europea rappresento il mio paese ma sono servo dell'unione europea quindi l'attacco a gentiloni perché non fa gli interessi italiani bisogna dimostrarli un po equivoco ecco e in secondo luogo il tirare fuori quando le cose vanno male uno tira fuori sempre i poteri forti qualcosa che non dipende da lui il tuono il fulmine il terremoto ecco e quindi in questo momento è un segno di preoccupazione che io vedo nel governo quando continuamente si sente perseguitato sa noi ma non dice chi è il persecutore ecco però tra poco per esempio noi avremo avremo diciamo i rating delle agenzie internazionali quindi il nostro debito pubblico verrà pesato no e gli verrà dato un voto in qualche maniera e questa la paura forse del governo e che cosa che scenari si potrebbero aprire è già pesato dai documenti di finanza che il problema del deficit è superiore a quelle che visioni e quindi il contenimento degli equilibri finanziari è un problema serio le reazioni del mercato internazionale vedo che dipenderanno da come si definiranno questi obiettivi e le misure per mettere in ordine le cose insomma e voglio dire in questi giorni la discussione si è spostata sulla sul cambiamento delle regole del patto di stabilità per carità mia bisogna cambiarle perché io stesso quando ero presidente della commissione europea sotto i fini stupido ho avuto un sacco di grado per quello però attenzione che lo si va si tenta di descrivere questo fatto come puoi darci il permesso di una non disciplina finanziaria continuare a far debito questo non avverrà in ogni caso ci sarà una maggior flessibilità anno per anno ma le regole dicono rimarranno le regole non saranno più nel singolo anno ma nell'ambito tra i 4 e i 7 anni la disciplina deve essere conservata e il debito non deve aumentare anzi deve leggermente diminuire quindi abbiamo ancora dei binari avremo ancora dei binari severi come è logico in una in un ambito comunitario senta lei ha ascoltato abbiamo sentito il miso dell'interno piante dose abbiamo parlato molto di immigrazione mi colpisce perché nel partito democratico c'è un sindaco il sindaco di pesaro matteo ricci che ha lanciato una proposta che oggi sembra quasi una follia vista dal lato del governo concedere il permesso umanitario anche ai migranti economici ecco cosa deve dire la sinistra di diverso dalla destra sull'immigrazione ma io dico che questa del sindaco di pesaro è una constatazione perché noi ne abbiamo bisogno ma ma non vede che lei giri per strada cercasi 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 nei bar nei ristoranti nelle stesse imprese pur non essendo un momento economico molto buono c'è assolutamente il governo dice vogliamo li dobbiamo scegliere noi però non possiamo prenderci tutti quelli che arrivano in questa maniera questo evidentemente non si possono prendere tutti perché nessun paese ed è emerso anche in tutti questi pre accordi che abbiamo così pre accordi europei è emerso questo fatto che non è non può essere il peso di un singolo paese però io credo che noi dobbiamo come dice il sindaco di pesaro avere un uclicerice un obiettivo e poi per favore mettiamo in atto i modi seri con cui si può attuare bisogna curare questi emigranti insegnare la lingua vedere il tipo di specialità che hanno le capacità perché noi non utilizziamo le capacità che hanno non li esaminiamo mai ma ne ho incontrati tantissimi mestieri di cui abbiamo bisogno di cui abbiamo bisogno non si fa nulla in materia senta professore torniamo un attimo al caro energia benzina al caro prezzi torneremo mai ai prezzi e ai tassi di prima il prezzo del petrolio è sempre un'ambiguità dipende molto da fattori politici in questo momento c'è questo grande accordo diciamo così tra i produttori di petrolio a tenere bassa l'offerta e quindi a tenere alti prezzi bisogna vedere che nessuno rompa questo mercato per ora io non vedo una diminuzione imminente naturalmente nemmeno vedo una crescita forte perché gli stessi produttori stanno attenti di non strozzare l'economia perché poi gli crolla la domanda ecco ma c'è proprio c'è un gioco in questo momento da parte dei produttori ma è ovvio è ovvio hanno il coltello nel manico per il manico e senta riguardo alla guerra lei non sente un raffreddamento nei confronti degli ucraini e di Zelensky che arriva dagli stati uniti si sente serpeggiare forte anche in europa è come se improvvisamente ci sentissimo tutti meno ucraini ci fosse poca voglia di andare avanti nel finanziare le armi di Zelensky lei che scenario vede questa stanchezza c'è è progressiva quando negli stati uniti dopo una spinta così forte sul finanziamento c'è un rinvio ci sono delle esitazioni da un lato si continuano a mandare armi dall'altro però si avverte che non si daranno risorse maggiori in europa quando in polonia che è il paese che più ha aiutato anche gli ucraini si abbassa il prezzo del grano reagisce e il governo pone delle barriere nei confronti della ucraina e la minaccia di non aiutarla più beh significa che il gioco di tanti interessi scompone la solidarietà iniziale e putin rischia di vincere alla fine no beh questo per ora è una guerra di trincea io non sono uno stratega quindi non ho nessuna idea di chi possa vincere ma è mesi che sostanzialmente si gioca in poche centinaia di metri quindi il problema guardi tanto per essere chiaro l'ho sempre detto fino al primo giorno o la cina e gli stati uniti si mettono d'accordo oppure questa guerra va avanti chissà quanto bisognerà aspettare donald trump presidente degli stati uniti no 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 vede io ero di un pessimismo cupo fino a un paio di mesi fa adesso sono cominciate le conversazioni fra stati uniti e cina continuamente no economiche politiche sui visti sulle cose su tutte le materie e si stanno elevando di grado non siamo ancora arrivati a una conversazione fra biden e xi jinping però c'è un scusi non vorrei essere troppo ottimista no c'è un ipotesi di colloquio che prima non c'era io mi attacco a questa speranza senta in america cosa cosa pensa che trump potrebbe tornare a essere presente negli stati uniti questo che significherebbe per la democrazia americana ma le previsioni ci sono anche di questo tipo io non sono non ho l'analisi interna dei pols però dico è una battaglia molto forte molto dura con anche questa ipotesi sul tavolo io penso che biden possa prevalere ma lei sente una un rafforzamento delle tensioni nella destra americana no ci sono state anche delle delle discussioni recenti certo che hanno dimostrato come ci sia una specie di nazionalismo di ritorno no e questo vedremo nei prossimi mesi professore l'ultima domanda che le voglio fare è un è il commento volevo dirle che in tutta questa bellissima intervista non abbiamo mai parlato della sinistra in italia perché lei non me l'ha mai chiesto non ho mica problemi come la vede all'ischline ma la sfida che ha davanti è estremamente difficile perché indubbiamente il governo come abbiamo visto prima governa il potere un collante fortissimo e lo schieramento diciamo così dell'opposizione è ancora fatto di divisioni quindi siamo in una fase assolutamente di 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 come pur di di assaggio ecco quello che però io penso è che se le forze riformiste vogliono vincere bisogna bisogna mobilitar la gente ma non nelle dimostrazioni nella discussione politica fare un appello al popolo proprio proponevo ma è utopia no che noi prendessimo in considerazione le 10 15 parole di cui noi parliamo a tavola no il lavoro la pace la droga eccetera e che ogni settimana il partito democratico che è l'unica struttura di partita ancora esistente metta una quindicina di di esperti non del partito ma di persone sagge che in rete dialogano con migliaia di persone alla fine di ogni settimana il presidente del partito il segretario del partito va in una città italiana se il volontariato è padova se la finanza è milano e discute in presenza di che cosa gli hanno detto gli italiani ma gliel'ha detto questo l'ha detto l'ha detto l'ha detto l'ha detto l'ha capito non lo so ecco io questo è quello che io penso quando lei dopo 15 settimane ha mobilitato centinaia di migliaia di persone vede allora così la democrazia le dico questo perché vede dopo 20 anni del programma dell'ulivo incontro una persona per strada e mi dice professore a pagina 93 del programma è quello che io gli ho detto a brindisi ma questa è la democrazia ma questa è la democrazia se noi non facciamo così non abbiamo democrazia capisce i partiti non ci sono più solo sono dei gruppi che fanno parte per se stessi allora o noi ripristiniamo il contatto col popolo e lo facciamo dire lo facciamo decidere oppure ogni sforzo di qualsiasi segretario diventa vano grazie professor